ciao e benvenuti in un nuovo video allora oggi andiamo a guardare insieme uno dei miei video più che preferisco fare quello dei mascara perché sono inclusivi sono adatti a tutti non c'è tanta varietà di tipo di pelle preferenze o altre solo da vedere se mantengo delle promesse o meno in tutto questo perché un naso cori lucido perfetto tutto a posto è normale per i miei video allora io direi di iniziare subito perché abbiamo le clip di ogni video di ogni prodotto abbiamo il mascara di Estée Lauder Rabanne make up poi Too Faced Better Than Sex Foreplay abbiamo il panorama di L'Oréal e per finire il di Kat Von D KWD il full sleeve iniziamo quindi a vedere subito come si comportano allora iniziamo subito con uno dei più chiacchierati che è il Too Faced Better Than Sex Foreplay allora questo nasce come primer anche perché c'è scritto mascara primer ve lo faccio vedere eccolo qui questo è l'applicatore però tantissime persone lo fanno vedere come un mascara proprio un mascara che ti fa un grande effetto quindi ho detto proviamolo intanto vi dico il prezzo questo è il travel size da 4 ml e viene 16 euro e 50 il grande da 8 ml viene 32 euro e 50 ma come si comporta clip allora Too Faced Better Than Sex Foreplay dovrebbe essere un primer per mascara che tanti dicono che fa anche da questo è l'applicatore un po' è colorato si vede ma ecco c'è tante tante passate effettivamente ovviamente oh giunghezza c'è tanta con le fibre però io non lo uso da solo adesso vado ad applicarci sopra un altro mascara allora avete visto tante persone lo fanno vedere come un gran mascara per me è un primer un primer leggermente colorato si però da un effetto davvero molto blando quando è colorato quindi è proprio un primer che dà appena appena un po' di colore nel caso non vogliamo ad esempio truccarci però da qui a dire che un mascara ce ne passa è vero ha un bel effetto allunga bene però se poi ci applichiamo sopra un mascara è un primer è un primer e resta un primer è inutile chi lo fa vedere non fa vedere esattamente solo solo quell'applicazione di questo primer ma noi andiamo avanti e andiamo avanti con Kat Von D K W D adesso sarebbe beauty questo è il full sleeve è questo qui è il 11 ml questo qui 25,90 euro e questo è l'applicatore che mi piace davvero molto quelli che piace da me ma come si comporta? clip ok mascara full sleeve di Kat Von D ok 3 4 mi piace molto allora avete visto mi piace bello il colore bella la lunghezza bello ed è l'effetto finale e le incurva le dà volume le allunga mi piace molto mi piace è un buon mascara che per me mantiene le promesse non si sgretola ed è non si spezzetta e non fa grumi e soprattutto è bellissimo anche la confezione è inutile unica cosa dicono che si rimuove anche con acqua tiepida lasciate stare usate uno struccante perché sono state lì davvero delle ore usate uno struccante si scioglie subito e si rimuove subito ed è sicuramente molto meglio io ho questa confezione questo pack che siamo proprio tutto attituato mi piace un sacco mi piace un sacco e mantiene le promesse ma a questo punto continuiamo ad andare avanti e andiamo avanti con questo di Estée Lauder che non è molto pubblicizzato però a me è piaciuto allora eccolo qua è il Turbo Lush vi pulisco un attimo l'applicatore per farvelo vedere perché è un po' particolare ma a me non dispiace allora 8 ml piccolino 39 euro ma parliamo di Estée Lauder però allora come sempre vediamo la clip di come si comporta mascara Estée Lauder questo è il Turbo Lush questo è l'applicatore proviamo Turbo e Turbo eccoci allora come sempre 3 e 4 macchia un po' ma si può pulire non andrei oltre le 4 allora è un mascara che a me non è dispiaciuto forse il prezzo è un po' elevato a prezzo pieno però è un mascara che ha dalla prima passata si vede la differenza come avete visto è bello nero bello intenso allunga incurva un pochino le allunga bene le volumizza anche a me per me mantiene le promesse ed è un mascara che non mi dispiace affatto questo applicatore è un pochino che parte con delle settole che sembra che facino un giro intorno è particolare vedete sembra quasi che giri questo applicatore sia un po' faccia il giro non so come dire non è un aereo neanche un vortice come si chiamano quelle cose che girano un'elica non un elica un torciglione ecco mi piace mi è piaciuto si rimuove facilmente con uno stroccante bifasico oppure un burro io sapete che non uso mai l'acqua micellare quindi però è abbastanza potente quindi vi consiglierei un bifasico quindi con un olio oppure un burro direttamente e per me anche questo mantiene le promesse ma andiamo avanti e andiamo avanti con questo di Rabanne Rabanne Makeup sapete che Rabanne ha fatto il brand Makeup che si chiama Rabanne Makeup inclusivissimo qui c'è un mascara una palette una matita uno di ognuno e questo è il mascara è il Euphoria Famous 5 in 1 8 ml viene 29,50 euro 4,5 ml che è questo 17 euro andiamo a vedere l'applicatore che è bellino cicciottino quelli che piacciono a me ma come si comporta? clip nuova mascara di Bacquara Ban questo è l'applicatore e andiamo a provarlo ok ho controllato che scrivesse perché questo è il risultato e mi sono manchiata ebbene si io ho controllato prima di dopo la prima applicazione che fosse un mascara e non un primer perché non rilascia colore è grigio non è nero sembra che lasci anche delle fibre ma per un mascara non lascia niente durante l'applicazione proprio ce ne vogliono tante 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 perché si veda qualcosa di colore ed tende dopo un po' ovviamente ad appiccicarsi perché lasciamo tante passate no almeno che non volete un risultato super naturale una passata e per non truccarsi solo per dare un attimo di definizione ma ce ne sono altri allora che costano un po' meno e no mi ha molto deluso ecco devo dire e ora veniamo invece all'ultimo mascara che è una super novità questo è della l'oreal panorama volume million lash e questo qui questa è la confezione l'ho appena finito perché me l'hanno inviato poco fa allora 9,9 ml perché mettercene 10 era troppo 14,90 euro come si comporta lo vediamo adesso l'oreal panorama volume million lash ecco qui allora 3 e 4 allora l'avete visto mi è piaciuto mi è piaciuto molto come mascara mi piace come si comporta mi è piaciuto come cattura bene le ciglia e ha questo applicatore che ho già chiuso ma lo riapro in silicone che va proprio a catturare bene tutte le ciglia ed è poche passate si vede la differenza si può anche stratificare riapplicando solo sulle lunghezze mi piace le punte sulle punte mi piace unica cosa come il pupa vamp ad esempio che è un ottimo mascara però una volta aperto dura poco cioè questo è finito e l'ho usato alcuni giorni è vero io lo uso tutti i giorni faccio diverse passate però dura pochino e è solo questo però per il resto è una novità molto interessante e niente queste erano tutte le novità mascara del pelo sapete che mascara è il mio make up preferito perché davvero è adatto a tutti ed è possiamo guardare come si comporta si comporta sì per lo stesso modo più o meno quindi ci sta come confronto e come video fatemi sapere quale avete preferito quale avete provato quale vi incuriosisce io vi do appuntamento al prossimo video che ci sarà tra poco con alti mascara perché li sto raggruppando e intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao